Se non è venire, se non è stato il campione, se non è stato il campione, quindi c'è un posto che vuole fare un'unica comunale, che è un'unica comunale, ma la cosa che volevo dire, io non ho avuto un piacere che il concorso che non c'era nuove, se volete, ritengo che sui 13-14 consigli nazionali nazionali, qualcuno che è stato seguitato è un posto di coscire, che è un posto di un auto che si è portato su un video e che nel prossimo video, si è portato a vedere, questa, come dire, è una situazione tra ciò che gli altri, e possiamo veramente indicare più e meno del genere di loro. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Allora, signor Presidente dell'Elezione del Presidente della Comunzione, la cissa del Presidente del Presidente Lusci. Allora, come già evidenti anni, consiglieri da ricordare, le condizioni in cosia hanno subito una vaginazione dovuta alla direttuità della comprensione del Presidente del Presidente. Allegato a questo regolamento, qui e qui, lo sono spiega anche il Presidente del Presidente del Presidente. Allora, signor Presidente del 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 Presidente E' alto, però, è che noi siamo di gente che ha legato a questa borsa, che ha un verbale, una commissione, che per le azioni che gli sono fatte spiegate, non può essere una commissione valida, possibilità. Quindi io ti chiedo, come se intende, di discriminare l'atto e ovviamente inviarlo nella Costituzione, in modo di fare il tempo, di riformulare le commissione consigliere e poterlo sottolineare al valore della verità regolarmente composta in possibilità. Quindi, secondo me è un arco di cui c'è il figlio, io ho chiesto che il figlio, lo devo spiegare a questa borsa, il figlio del capo, per le azioni che ho riposto, qui in su questa borsa è il figlio dell'altro, o comunque che venga formato, formato il figlio del capo, Grazie a tutti!